Ciao a tutti, benvenuti o bentornati. Tutta la vita a tenerci occupati. Un'intera esistenza a cercare di distrarci. Ma da cosa? Dalla super domanda alla quale non vogliamo rispondere. Ma perché non vogliamo rispondere? Perché la risposta non ci piacerebbe. Quindi oltre alla domanda conosciamo anche la risposta. Sì, perché insita dentro di noi. E quale risposta potrebbe spaventarci tanto da evitarne la domanda? Che forse stiamo sprecando la nostra vita? Nel senso che abbiamo fatto scelte personali e professionali sbagliate? No, perché quelle sarebbero solo le conseguenze. Quello che non facciamo è sfruttare il nostro potenziale per esprimere il nostro scopo nella vita, che non è guadagnarsi da vivere e stare al passo con il sistema. Quindi una persona non dovrebbe lavorare o creare rapporti. Sì che dovrebbe. Ma non serve occupare tutto il potenziale del nostro infinito sistema cerebrale per eseguire operazioni che fanno tutte le creature viventi. L'essere umano ha questo strumento cosmico per un motivo e questo non può essere l'essenziale che ogni altra creatura riesce a gestire. In noi c'è la fiamma della creazione perché potessimo utilizzarla e non spegnerla o tenerla assopita perché ci fa paura. Nessuno o pochissimi vanno oltre l'essenziale. Ci sarà un motivo. Il motivo è la non educazione all'essere ma all'apparire ed uniformarsi e anche il non impegnarsi in qualcosa che molti hanno provato e non sono riusciti e anche soprattutto e sottinteso in tutto la paura di essere esclusi dagli altri prima per essere andati controcorrente e poi in caso di fallimento. A questo punto allora ma qual è questa domanda? Perché? Perché nonostante faccia tutto secondo gli schemi sento che non va bene? Perché l'abbondanza economica, il successo, l'amore non mi rendono felice ed appagato come avevo immaginato? Perché con tutti i traguardi raggiunti mi sento come se avessi fallito in tutto? Perché nonostante una vita così piena sento questo senso di vuoto? La risposta che non vogliamo sentire è unica per tutti questi perché accessori. Abbiamo proiettato tutto all'esterno verso le cose e le creature viventi lasciando il nostro io a casa come spettatore invece che come protagonista. Ciao e alla prossima.